No, oggi va bene, rispondi. Può essere una cosa importante per il club, sicuro, forse per l'esperienza dei giocatori e anche della mia. Come abbiamo fortunati, siccome il viaggio non è per me un viaggio ottimo, preferisco che abbiamo tempo per organizzare tutto per la prossima stagione. Sarà meglio andare di là, con il capitano, che lui è il maro della squadra, è un uomo chiaro che il mondo conosce. Andare in Indonesia senza il capitano per me non ha senso.